Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, precisamente in zona Taranto 2, nei pressi del depuratore Gennarini, via Aleardi, che è quel lunghissimo tratto di strada che congiunge via Unità d'Italia con via Lama. Purtroppo una zona dimenticata, abbandonata a se stessa, che da decenni ormai, ormai ha fatto storia e purtroppo sede, lo dico simpaticamente ma c'è poco da sorridere, di una vergognosa discarica, anzi di vergognose discariche, dove vedete c'è di tutto, dai materassi ad altro materiale di plastica, vecchi televisori, materiale di risulta, insomma di tutto di più. Un fatto è certo, l'amministrazione comunale dovrebbe intervenire periodicamente, visto che si tratta di una strada di competenza comunale, di proprietà comunale. E allora ci sono certamente gli incivili, gli incivili che vanno puniti in maniera drastica, senza alcuna misericordia, chi inquina, chi conferisce questo materiale di risulta, deve ricevere sanzioni draconiane, però deve esistere anche la prevenzione. E oltre alla prevenzione, quindi controlli preventivi da parte dell'amministrazione, ma soprattutto, signori cari, mi sembra di dire una cosa ovvia, un servizio di igiene, un servizio di igiene pubblica di rimozione. Qui è a rischio la pubblica incolumità, qui si rischiano infezioni. Ma, signor Sindaco, assessorato all'ambiente, quando dovete darvi una mossa e far sì che l'AMIU o altri soggetti preposti provvedano a rimuovere questa tipologia di rifiuti, è pazzesco, è pazzesca una situazione del genere. E lo sapete bene, è una situazione che si è incancredita da anni e nonostante gli anni, i decenni, non cambia nulla. Questa città è spenta, regna l'indifferenza, regna la rassegnazione. E noi vogliamo rivoltare questa città come un calzino, perché non ci teniamo a piegare la testa e non possiamo subire inerti e passivi certe discariche che neanche nel terzo mondo si trovano. Grazie a tutti.